Salve a tutti ragazzi, oggi spiegheremo come disabilitare la scheda di rete wireless del vostro computer, sia fisso o portatile. Per prima cosa dobbiamo dire perché potrebbe essere utile disabilitare la scheda di rete wireless. Se state utilizzando una rete LAN, cioè il cavo, il vostro computer, anche se non è connesso via wireless, comunque sarà sempre in ricerca del segnale wireless. Facciamo un esempio, io adesso non sono connesso ad alcuna rete, ma comunque il mio computer continua a segnalarmi le possibili reti wireless che ci sono attorno a me. Per disabilitare la scheda di rete andremo nel centro connessioni di rete. Da qui cliccheremo su modifica impostazioni scheda. Qui troveremo tutte le connessioni del nostro computer, sia LAN che wireless. Allora, quella che dobbiamo disattivare è la rete wireless. Facciamo clic per selezionare l'icona e in alto ci comparirà disabilita dispositivo di rete. Cliccando qui, in pochi secondi verrà disabilitato. Una cosa semplicissima. Ok. Una volta disabilitato, l'icona diventa grigia e compare la scritta disabilitata. Possiamo vederlo anche in basso, visto che non c'è più la scala graduata che ci indicava il livello, la qualità della connessione, ma bensì una semplice icona che indica che la nostra LAN, il nostro cavo non è connesso. Per riabilitare invece la scheda di rete, una volta selezionata l'iconetta grigia, clicchiamo su disabilita dispositivo di rete, perché non possiamo disattivarlo due volte. In pochi secondi verrà riabilitato il tutto e, come possiamo vedere, riavrò nuovamente l'elenco delle connessioni attive nell'Ethere vicino a casa mia. Ok. Detto questo, spero che il video vi sia stato utile. Iscrivetevi al canale e un salutone a tutti quanti.